Un importante investimento, 67 nuovi bus consegnati oggi, altri 23 saranno consegnati entro il 2024. Un grande sforzo di Tua e della Regione Abruzzo per il rinnovo del parco rotabile. Se si pensa che al nostro insediamento, 5 anni fa, il tasso di vetro stava intorno al 14%, adesso siamo all'8,8, al di sotto della media nazionale, questo ci fa capire dell'importanza dell'intervento fatto e dei risultati ottenuti.